Ieri sera la sala stampa della Santa Sede ha emesso un comunicato con il quale si rendeva noto che Papa Francesco ha accolto la richiesta di Monsignor Pascalis Bruno Siukur, vescovo di Bogor in Indonesia, di essere risparmiato dalla nomina cardinalizia. In questo comunicato venivano scritte alcune cose che chiaramente vanno ad accendere i più reconditi desideri dei giornalisti di andare a smanettare e quindi si dice la richiesta è motivata dal suo desiderio di crescere ancora nella vita sacerdotale nel servizio alla Chiesa e al popolo di Dio. Cioè che cosa significa? Chiaramente non è vero, cioè nel senso sì probabilmente dovrà crescere ma qualche suora, chiamiamola così, ha detto oh come San Filippo Neri ha rifiutato il cardinalato. No, cioè qui non stiamo parlando di santi, come però non stiamo parlando neanche di carnefici. La richiesta è motivata dal fatto che da quando è stata data l'annuncio da Papa Francesco, lì si sono scatenati tutti per protestare perché a loro dire non sarebbe stato sufficientemente diligente nel trattare determinati casi di abuso. C'è stato un processo? No. È stata appurata la veridicità di queste accuse in una sede giurisdizionale? No. Però agiamo così. È chiaro che queste decisioni nonostante vengono vendute in questo modo sono differenti, cioè si fa presente, la diocesi fa presente a Santa Marta che sta succedendo tutto questo e allora poi insieme si dice forse è il caso di non farlo. Adesso a mio parere agire in questo modo è folle. È folle perché è contrario al diritto, è contrario alla dignità delle persone, delle persone accusate, delle persone che si dicono abusate, eccetera, eccetera. Cioè nessuno viene rispettato in tutto questo perché se io faccio un processo do la possibilità a tutti di parlare, di dimostrare, di provare. Se il processo assolve non c'è motivo di non farlo cardinale. Se il processo condanna si agisce di conseguenza. Però noi abbiamo capito che questo è un modo per dare la possibilità ai laici di governare la Chiesa. Cioè questo diciamo che è stato un abusatore? E va bene, agiamo di conseguenza. E quindi lui è un abusatore. Fine. Ma lo ha deciso il popolo di Dio? Lo ha deciso il tizio, il caio e il sempronio? Cioè vedete, adesso noi abbiamo anche questi blog di psicorepressi che si preoccupano solo di pizzi e merletti, che adesso peraltro vanno a fare le combo, no? Prima avevamo i blog di psicorepressi con pizzi e merletti e poi avevamo gente silurata dal Vaticano, che ha sempre detto di essere stata abusata, eccetera, mai provato. Silurata dal Vaticano, cioè che arrivato Papa Francesco lo avevano accolto come se fosse non si sa che cosa. Poi quando sono stati silurati e non sono stati portati così, allora hanno iniziato a scrivere su questi blog le peggio cose, che il Papa non andava bene, che qui che là, e avevano ovviamente sempre il pallino degli abusi. Allora la risultanza qual è? Che adesso peraltro sembrava ce ne fossimo liberati, ma capite bene che la gente non ama star zitta, la gente ama parlare in continuazione e soprattutto a sproposito. Quindi adesso facciamo la combo. Gente che comunque è promotrice, no? Visto che avevano accolto anche Papa Francesco in un determinato modo, no? Per rimanere peraltro nei temi attuali di queste ore, gente che sposava la teologia della liberazione e peraltro ce l'ha con Papa Francesco perché non ha fatto abbastanza, no? Si mettono insieme a soggetti invece che se fosse possibile prenderebbero il messale dell'anno 0 avanti Cristo e si mettono insieme perché su queste tematiche, capite, psico-repressi e teologia della liberazione, eccetera, insieme, no? E capite che poi alla fine, parlo ai tradizionalisti, no? A quei tradizionalisti che comunque sono attorno a Silere e evidentemente non hanno ben chiaro come funziona al mondo, che forse non andiamo avanti soltanto a stirare, a sistemare le tende, vorrei dire che forse sarebbe il caso di svegliarsi e rendersi conto che è deleteria una cosa come l'altra perché quando c'è da parlare male dei preti questa gente è in prima fila, sia gli organisti, sia i ragazzetti che amano mettersi la talare nonostante non la debbano mettere, eccetera, eccetera, no? Cioè noi abbiamo quella gente che addirittura quando vai a prendere la pisside dentro il tabernacolo, cioè loro ti devono spiegare come devi prendere la pisside, come devi dare la comunione, no? Qualche giorno fa scrive un ragazzetto a Silere non posso, ma questa cosa non si poteva fare, eccetera, cioè questi soggetti che vivono magari, non so, nelle isole ti scrivono dicendoti che durante una celebrazione, celebrazioni che non si considera nessuno, non ce le consideriamo nemmeno noi, quella cosa è stata fatta così, cioè tu vai a pensare e dici ma questo qui, ma che voglia ha di prendere il computer e andarsi a mettere lì a guardare la celebrazione nell'ottica di dire, oddio, vediamo appena ci sarà qualcosa che secondo il mio parere non è giusta poi gli vai a chiedere di liturgia, eccetera, non capiscono niente, però loro sono pronti così, cioè è gente che non ha niente da fare io adesso capisco, tra l'altro anche il governo italiano si vanta, no? Che l'occupazione è salita a me non pare, cioè questa gente, poi mi chiedo come campa, probabilmente abbindoliamo determinati soggetti poi li ricattiamo e andiamo avanti così, no? Sono cose che purtroppo siamo abituati, no? Sono all'ordine del giorno va bene? Chiudo la parentesi perché poi se divago è la fine quindi, detto questo, forse sarebbe il caso di iniziare a trattare e l'abbiamo detto anche nella newsletter di settimana scorsa, no? C'è stato quell'ignorante di Stefano Feltri che, poverino, non ha nemmeno le capacità per comprendere determinate cose, no? insieme anche a quell'altra Federica Turno, no? Che adesso va in giro a dire che è stata lei a tirare fuori il caso il caso di Rupnik adesso io continuerò a dirlo, poi ci saranno anche le sedi opportune per dirlo continuerò a dirlo il caso di Rupnik l'abbiamo tirato fuori noi e dire che lo ha tirato fuori, sì, lei non posso, non è solo dire la verità ma è anche un riconoscere per la gerarchia che le cose sono uscite da dentro, non sono uscite da fuori cioè non sono arrivate da fuori le denunce sono uscite da dentro perché tutte quelle soggette, no? Che adesso vanno in giro a fare la grande propaganda devono affermare e devono riconoscere che se non fosse stato per Silere non le aveva ascoltate nessuno perché non erano cose che sono uscite quando le abbiamo tirate fuori noi sono cose che qualcuno aveva già detto ma nessuno gli aveva dato retta quando è uscito Silere allora poi dopo si è agito perché? Perché nonostante questi giornalai ovviamente dicono peste e corna anche no? Quelli che mangiano i bomboloni a Borgopio e poi dopo invitano i ragazzetti nella sala stampa ecco, nonostante tutti dicano queste cose sanno benissimo che Silere non possono pubblicare soltanto roba vera ma è smentita e se la pubblica è perché evidentemente ha fatto tutto un cammino per verificare la veridicità quindi adesso io dico Feltri su Twitter ha scritto a voi invece di difendere gli abusatori dovreste indagare, no? cose del genere noi che da un sacco di tempo arriviamo a dire che il problema degli abusi eccetera va visto invece di continuare a fare delle norme che non servono a niente bisogna fare innanzitutto delle norme che siano preventive cioè che evitino che le cose accadano poi bisogna parlarne con verità quindi se le persone sono innocenti sono innocenti, punto cioè non è che se ce lo dice il domani allora sono colpevole anzi sono ancora più innocenti di prima perché se lo dice il domani significa sicuramente al 100% che è una fesseria quindi e noi abbiamo sempre detto forse è bene concentrarsi prima di tutto sugli abusi di coscienza, gli abusi psicologici che sono soltanto la porta verso tutto questo però capite andare a fare un discorso del genere a una tizia che starnazza come una gallina e dice che è valdese cioè dai allora quindi ritornando alla questione anche in questo caso chi ci dice che Monsignor Siucur è colpevole o non è colpevole? cioè noi decidiamo la possibilità di diventare cardinale oppure no a seconda di quanto la gente allora facciamo le cose per acclamazione facciamo le cose per acclamazione la gente dice sì 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 allora va bene si dice no allora no allora in questo modo facciamo le diaconese domani mattina che noi abbiamo anche altri no che starnazzano dalla mattina alla sera la riserva maschile la riserva maschile perché abbiamo chiuso? io veramente mi chiedo Basaglia cosa gli è venuto in mente va bene quindi la questione è questa non possiamo governare la chiesa a seconda degli umori della gente cioè o le cose sono dimostrate oppure no in conclusione c'è da sottolineare che in questo pontificato è già la seconda volta che succede peraltro per gli stessi motivi e forse qualcuno si dovrebbe rendere conto che se in passato si chiedevano i fascicoli al di Castero per i vescovi si chiedevano i fascicoli in segreteria di stato e si analizzava la vita della gente per verificare poi peraltro glielo si comunicava prima in modo che la gente potesse anche dire non ho voglia di dire i motivi però rifiuto e la cosa rimaneva chiusa così invece in questo modo si vanno ancora una volta a distruggere le persone Santo Padre è convinto dopo ben dieci concistori che lui ha fatto tutto bene e guai a criticarlo noi santità non sappiamo più cosa dire non sappiamo più cosa dire